Il referendum flop in campagna, a Napoli record negativo, affluenza alle urne è disastrosa per i quesiti referendari sulla giustizia. A Napoli hanno votato solo 8 cittadini su 100, il sindaco Manfredi conferma cattivo uso dello strumento del referendum, quesiti troppo tecnici. Voto 7 sindaci eletti senza aspettare lo spoglio, si tratta di quei centri campani dove in campo c'era un solo candidato sindaco, 12 comuni sopra i 15 mila abitanti con l'ipotesi ballottaggio, dalle 16 diretta elettorale su 8 channel con collegamenti e ospiti in studio. Droga presi gli autori del ferimento di Noemi, smantellato un'organizzazione di narcos sull'asse Napoli cattolica in Emilia, stamane il blitz della finanza, 10 arresti a guidare la banda ai fratelli del re, già in carcere per l'agguato di via nazionale, quasi tutti gli indagati intascavano il reddito di cittadinanza. Benevento sfregio al Sampio, la rabbia di Mastella, gesto inqualificabile e ingiustificabile, dice il sindaco dopo l'atto vandalico che ha danneggiato due statue sacre all'interno della cappella di preghiera dell'ospedale di Benevento. Unanime lo sdegno, avviate le indagini. Salerno, donne del mirino, ore allarme e violenza, ancora grave, la 28enne rumena, coltelata dall'ex, l'uomo è stato fermato per tentato omicidio, in città anche una 14enne ferita al braccio dal fidanzato, SOS del centro differenza donna, si intervenga prima che sia troppo tardi. Pronto soccorso al collasso, nuova protesta al Moscati, ad Avellino, medici e infermieri in una lettera al manager denunciano la gravità della situazione e chiedono rinforzi. Il presidente dell'ordine dei medici, Selitto, conferma situazione del personale drammatica. E questi erano i titoli di oggi, ben ritrovati con 8 Channel News. In apertura il grande flop del referendum, mancato il quorum per i cinque quesiti sulla giustizia, affluenza a Napoli al 14,78% tra le più basse in Italia. Non è bastato il traino delle amministrative che al contrario fanno registrare una buona partecipazione. Passerà la storia come il flop dei flop, questo referendum sulla giustizia, con cinque quesiti, tutti senza quorum. Secondo i dati del Viminale, l'affluenza in Italia supera di poco il 20%. In pratica è stata la più magra performance referendaria di tutti i tempi. Anche più del referendum sulla legge elettorale del 2009. E la campagna, certo, non brilla per partecipazione, con dati record di astensione a Napoli, dove alle 23 aveva votato solo il 14,8% degli aventi diritto. La provincia più in linea con la media nazionale è Salerno, dove ha votato il 21,38%, il 20,50% ad Avellino, il 17,21% a Caserta e il 16,44% a Benevento. Non è bastato il traino delle amministrative per convincere gli elettori ad esprimersi sui temi della giustizia. Al contrario, sulle elezioni comunali, la campagna fa registrare tra le affluenze più alte d'Italia, sopra il 64%. Per il resto, scarsa informazione, quesiti troppo tecnici, partiti defilati che hanno preferito non prendere posizioni nette e mettiamoci pure la domenica di sole. Sono tante le ragioni alla base dell'insuccesso. Per il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, è evidente che è stato fatto un cattivo uso dello strumento referendario. È un segnale non bello e quindi anche perché è un momento in cui ci sono grandi preoccupazioni da parte dei cittadini su quella che è la quotidianità, il problema della riduzione del potere d'acquisto, il problema del salario. È stata una combinazione di effetti che ha determinato un risultato che è sicuramente un indebolimento per la democrazia, quindi bisogna ripensare l'uso dello strumento referendario che ha dato tanti risultati importanti all'Italia. Per quanto riguarda la tornata delle amministrative, in Campania già eletti i sette sindaci prima dello spoglio erano gli unici candidati e avevano da superare solo lo scoglio del quorum. Sentiamo. In Campania ci sono già i primi sette sindaci eletti. Si tratta dei comuni nei quali è stata presentata una sola lista e di conseguenza un solo candidato sindaco. Per i comuni sotto i 15.000 abitanti, infatti la norma prevede che per l'elezione dell'unico candidato e di tutti i candidati della lista sia sufficiente che il numero dei votanti non sia inferiore al 40% degli elettori. In Irpinia il primo cittadino eletto a Capriglia, annunziante Piccariello e a Flumeri, Angelo Antonio Lanza. In provincia di Caserta, Bairano, Patenora. Il nuovo sindaco è Stanislao Supino. A lettere in provincia di Napoli è stata eletta Anna Mendola. A buon abitacolo ha superato il quorum Giancarlo Guercio. Stessa situazione a Cicerale, dove la cittadinanza ha votato Giorgio Giuggiero. In provincia di Salerno, Sant'Arsenio, Donato Picca potrà indossare la fascia tricolore. Per l'ufficialità bisogna attendere però lo spoglio di oggi e la verifica della seconda condizione necessaria all'elezione e cioè che i voti validi all'unica lista ammessa non siano inferiori al 50% dei votanti, condizione che appare comunque essere una mera formalità. Intanto non sono mancati gli intoppi nei seggi elettorali. A Nocera Inferiore ci sarebbe stata una compravendita di voti, secondo una candidata al Consiglio Comunale davanti al Liceo Galizia. Una banconota di 20 euro sarebbe stata consegnata a un elettore. Invece a Sant'Antimo i carabinieri hanno ritrovato tre tessere elettorali a casa di un 45enne pregiudicato intestata da altre persone. Le schede sono state sequestrate e l'uomo denunciato. E8 Channel seguirà l'esito della consultazione elettorale con una trasmissione speciale a partire dalle 16 di oggi pomeriggio con ospiti in studio e collegamenti dai comuni più significativi al voto del napoletano, del salernitano e della velinese e aggiornamenti dal beneventano. Movida a Napoli, fumogeni e divertimento fuori controllo nel centro storico, intanto ancora morti sulle strade, tre vittime in dieci giorni. Sentiamo. Una mattanza, un'emergenza, Movida nel napoletano, tre giovani morti in dieci giorni sulle strade del giuglianese, tutti in circostanze analoghe, dopo notti di festa e momenti di divertimento postati su Facebook o su Instagram. Dopo i 21 anni, Emanuele Svolazzo e Giuseppe Capodanno, il primo morto a Giuliano e il secondo sull'asse mediano, l'ultima vittima si chiama Marco Merone, 25 anni, di Pozzuoli. Un'altra croce sull'asfalto all'alba di ieri, drammatico il bilancio, oltre alla vittima ci sono quattro feriti, di cui due in maniera grave. Intanto in centro a Napoli esplode il caso Movida, follia a Piazza San Domenico tra fumogeni e schiamazzi e i residenti chiedono la proroga dell'ordinanza comunale che scade il 17 giugno. La scadenza dell'ordinanza non è un liberi tutti, ma è un fatto che comunque potrebbe far pensare in questo modo. Questo fine settimana è andato malissimo, segnalo in particolare un episodio che si è svolto nella notte tra venerdì e sabato a Piazza San Domenico Maggiore dove c'è stata una cosa che fanno tutti gli anni, una commemorazione con incendio di Piazza San Domenico Maggiore con fumogeni che hanno invaso, i cui fumi hanno invaso le case d'abitazione. Poi nel centro storico sempre, nel quadrilatero Vico Quercia, via Cisterna dell'Olio e via Domenico Capitelli, così come pure a Banchi Nuovi, veramente tantissimi giovani in una folla che è completamente ingovernata. La cronaca spaccio di droga tra Napoli e Cattolica. In Emilia nei guai anche gli autori del ferimento della piccola Noemi. Vediamo. Ci sono anche i due fratelli del re Armando e Antonio, i responsabili del ferimento della piccola Noemi in un raid punitivo in Piazza Nazionale il 3 maggio 2019, tra i destinatari di una misura cautelare emessa dal GIP di Napoli dopo le indagini della Guardia di Finanza su un gruppo di narcotrafficanti partenopei. Sono dieci gli indagati, di cui otto in carcere, uno ai domiciliari e uno con obbligo di dimora nel comune di Napoli, gravemente indiziati di appartenere a un'organizzazione criminale dedita al narcotraffico. I due fratelli sono già detenuti per il tentato omicidio della bambina, risultato accidentale di una spedizione punitiva che doveva colpire un affiliato al clan reale, Salvatore Nurcaro, per la gestione di una piazza di spaccio e per gli inquirenti sono legati alla malavita organizzata del quartiere di San Giovanni a Teduccio. Proprio i fratelli del re sono a capo dell'organizzazione di trafficanti di droga, una delle più attive del traffico di stupefacenti nelle principali piazze di spaccio di Napoli e provincia. La droga viaggiava in vetture dotate di doppio fondo, un sequestro di oltre 3 kg di asci c'è stato compiuto nel corso delle indagini. Forniture di droga erano anche assicurate a un sottogruppo attivo a Cattolica in Emilia Romagna. Gli accertamenti economico-patrimoniali, portati avanti in parallelo dal GICO, hanno inoltre fatto emergere che la quasi totalità delle persone colpite dai provvedimenti restrittivi sono beneficiari del reddito di cittadinanza. Favori in cambio dell'assunzione di alcuni conoscenti e l'accusa che la procura di Salerno ha contestato ad un luogotenente della Guardia di Finanza in servizio in città, il sotto ufficiale indagato per induzione in debita a dare o promettere utilità. Secondo l'accusa, l'ispettore avrebbe prospettato al titolare di una cooperativa attiva nel servizio di accoglienza dei migranti finita al centro di alcuni accertamenti di mettere a posto la situazione. In cambio, l'imprenditore come poi avvenuto avrebbe dovuto assumere due conoscenti del finanziere. Il luogotenente è stato sospeso dall'esercizio di pubblico ufficio per un anno. Gesto inqualificabile e ingiustificabile. Arrabbiato il sindaco di Benavento Mastella dopo che qualcuno ha danneggiato due statue sacre all'interno della cappella dell'ospedale San Pio. Vediamo. La statuetta di San Pio in frantumi sul pavimento e la statua della Madonna colpita e danneggiata a un milleatto sacrilego, quello compiuto un paio di notti fa all'interno della cappella dell'ospedale San Pio di Benevento. Un'azione sconsiderata dei vandali o di chiunque altro che non trova giustificazione in nessun ambito, come ha tornato il managgiamente dell'ospedale Sannita. Questa mattina, sull'episodio per il quale è stata presentata una denuncia inquestura, è intervenuto il sindaco Mastella che ha tuonato contro il responsabile. Ma sarà un imbecille o un miscredente? Probabilmente è imbecille o miscredente. E sempre nel Sannio continuano le indagini della Polizia di Stato sull'intimidazione subita dalla Presidente del Consiglio Comunale di Telese Terme, Maria Venditti, alla quale è stata incendiata l'auto allestita per il trasporto della sedia a rotelle che l'esponente dell'amministrazione, guidata da Giovanni Caporaso, è costretta ad utilizzare. Al pari delle indagini continuano anche le reazioni di sdegno da parte di politica e istituzione. Questi gesti vanno condannati, ma non sotto l'aspetto solo formale o della retorica, nella maniera più sostanziale possibile. Nei confronti di un amministratore, più che mai, questa Maria venditta che ricopre anche l'incarico di Presidente del Consiglio. La conosco quanto è impegnata nel sociale, perché è espressiva, ha sempre questa spinta positiva, ma non sono questi gesti che fermano l'istituzione a fare bene. L'escalation di violenza sulle donne nel Salernitano è ricoverata in prognosi riservata. La 28enne rumena accoltellata dall'ex, l'uomo è stato fermato per tentato omicidio e anche una 14enne è stata colpita al braccio dal fidanzatino con un coltello. Sara Butte. Due donne accoltellate a poche ore di distanza, Salerno è allarme, se l'è cavata con qualche punto una grande paura e una corsa all'ospedale Ruggi d'Aragona, una 14enne colpita con un fendente al braccio dal fidanzatino coetaneo, mentre i due si trovavano in pizzeria con i familiari di lei. A scatenare l'aggressione pare la gelosia, il minorenne è stato denunciato, ben più gravi le condizioni invece della 28enne rumena che stava rientrando con i propri figli nella struttura protetta che li ospita a Castiglione dei Genovesi. La donna raggiunta dal suo ex fermato per tentato omicidio dai carabinieri è stata colpita con 12 coltellate, operata all'ospedale di Salerno e ricoverata in prognosi riservata, un'escalation di violenza preoccupante. La situazione è drammatica. A Salerno nel 2022 più di 30 donne si sono rivolte al centro antiviolenza e stanno portando avanti un percorso di rielaborazione della violenza subita e percorsi insomma di fuoriuscita dalla violenza con i figli minori. Molte donne sono in protezione, molte altre stanno portando avanti delle azioni per vivere una vita libera. è necessario intervenire al più presto. Bisogna prestare attenzione all'escalation di tale violenza, portare avanti le azioni delle 4P che ci segnala la Convenzione di Istanbul, persecuzione del reo, protezione della vittima, prevenzione e politiche integrate. C'è bisogno assolutamente di un lavoro sinergico, multidisciplinare, un lavoro di rete con un monitoraggio costante. Con l'assa il pronto soccorso del Moscati di Avellino, medici e infermieri chiedono rinforzi. Il presidente dell'ordine dei medici Sellitto, situazione del personale drammatica, bisogna rivolgersi di più ai medici di base. Vediamo. Il pronto soccorso dell'ospedale Moscati di Avellino continua a essere in grande sofferenza. I sindacati di medici e infermieri scrivono al manager Pizzuti. Servono sei sanitari in più per ogni turno di lavoro. Va creata un'area dedicata all'esterno e bisogna aumentare il numero di posti letto del reparto. Un allarme pienamente condiviso dall'ordine dei medici. La prima cosa è il personale. Noi abbiamo carenza di medici, abbiamo carenza di infermieri, di ossi, insomma la carenza è su tutto il comparto sanitario. Quindi dobbiamo fare in modo effettivamente da assumere nuovo personale, ma ce ne vogliono tanti. Io ho sempre fatto, diciamo, ho dato sempre un numero, servono 700 operatori sanitari tra medici e infermieri in provincia di Avellino per cercare di colmare quello che il piano di rientro aveva provocato purtroppo. Questo è stato fatto in parte, ma solo in parte bisogna accelerare su questa cosa. Troppo spesso, aggiunge Sellitto, si verificano accessi impropri al pronto soccorso. Ecco allora la mia raccomandazione ai cittadini, quella di rivolgersi di più ai medici di base. Noi avremo fra un annetto, credo, una carenza drammatica di medici di famiglia. Però attualmente funziona e funziona anche bene. Quindi gli accessi impropri sono tanti, ma io posso garantire che non sono i medici di famiglia a inviare al pronto soccorso le persone, ma ci vanno motu proprio. Quindi credo sinceramente che se le persone si rivolgessero un po' in più al proprio medico di famiglia, molte di quelle problematiche sarebbero risolte negli ambulatori. Tutelare l'ambiente dai rifiuti con il contributo di tutti i Rotary nelle acque del porto di Salerno saranno installati sei nuovi cestini del mare. Il servizio. Si chiama Nereus il progetto illustrato alla stazione marittima e che ha visto impegnati tutti i Rotary Club della città di Salerno. Installati altri sei cestini del mare che si aggiungono ai due già presenti sui pontili galleggianti nei bacini della città. Dal porto commerciale, al masuccio salernitano, i cosiddetti Sibin provvederanno a rimuovere dall'ambiente marino la plastica ed i rifiuti galleggianti. Deve sapere che la nostra Rotary Foundation, che è il nostro braccio operativo finanziario, dal primo luglio dell'anno scorso ha istituito la settima area prioritaria, la salvaguardia ambientale. E sulla base di questo stiamo sviluppando una serie di progetti. I Sibin sono gli strumenti dei cestini praticamente gestiti dai moli che consentono il recupero delle macro, ma soprattutto delle microplastiche, perché quando una plastica grande, una macroplastica si distrugge, si verificano queste microplastiche. Questi cestini hanno la grande capacità anche di raccogliere queste microplastiche, evitando che vadano nella catena alimentare. Il primo elemento che noi abbiamo a Salerno è chiaramente l'elemento acqua e crediamo che questa sia una risorsa, oltre che strategica e indispensabile per l'umanità, a Salerno credo che sia una risorsa veramente primaria per tanti motivi. Un'iniziativa che ha un forte significato, cioè quella della tutela ambientale e in particolare il contrasto alle microplastiche in mare. Certamente tutela ambientale, ma abbiamo anche fatto attività di sensibilizzazione con le nuove generazioni su quello che è il problema della plastica, ma non solo della plastica, cercando di trasmettere ai giovani che bisogna resettare il modo di pensare, bisogna pensare a un'economia circolare. Nel Sannio, in vista della realizzazione della più grande opera idrica del sud, la diga di Campolattaro si lavora ad un progetto per la promozione del territorio. De Lucia. Sarà la più grande opera idrica del sud Italia, tra i sette interventi strategici nazionali del PNRR. Il progetto per la diga di Campolattaro nel Sannio impegnerà fondi per 480 milioni di euro e garantirà l'autonomia idrica all'intera regione, ma costituirà anche una fonte energetica d'impatto dirompente. È dunque essenziale anche creare le condizioni perché l'opera sia traino dell'intero territorio circostante ed in quest'ottica si inserisce il Festival dell'Acqua in programma nel prossimo fine settimana, promosso da SEA, l'Agenzia Sannite Energia e Ambiente, gestore della diga di Campolattaro. Un evento che proporrà sport acquatici, visite culturali e naturalistiche e un atteso spettacolo di fontane e danzanti presso il lago di Campolattaro. La diga è un'opera attesissima, ma non deve limitarsi alla finità che è anche importante, quella dell'acqua, stiamo vedendo anche sui giornali, questa pianura anche nel Po che mette in discussione e in difficoltà molti comuni, addirittura si parla di 125 comuni tra la Lombardia e il Piemonte, ma dobbiamo andare oltre perché dobbiamo cercare di valorizzare e di promuovere i territori. La presenza anche dei comuni di Campolattaro e del comune di Morcone è testimonia che la diga deve essere, e tutto l'ambiente diciamo incontaminato circostante, deve essere valorizzato e deve portare al turismo, deve essere una ricchezza per ogni settore, dall'ambiente a quello sportivo, dal sociale a quello diciamo anche perché no commerciale. Il voto alla provincia di Avellino con il buono pane bis avrà ripercussioni anche sul comune capoluogo. Il capogruppo dei Demi, Iacovacci, dice il PD è all'opposizione. Non tralasciamo l'ipotesi di una mozione di sfiducia a festa. Dal palazzo della provincia a quello del comune di Avellino il passo è breve e non solo geograficamente. La vittoria bis di buono pane avrà ripercussioni anche su Piazza del Popolo, ne è convinto il capogruppo dei Demi, Ettore Iacovacci. Qui il PD e all'opposizione se ne facciano una ragione. Il voto di Palazzo Caracciolo ha sancito chi è dentro il partito e chi no. Quindi chiunque può fare parte del PD deve venire all'opposizione. Non è che può stare in maggioranza e decidere di fare il PD a seconda della giornata o a seconda di chi votare. Con questa vicenda del provinciale abbiamo definito chi è che sta col PD e chi non sta col PD. Ecco perché Iacovacci tiene sempre viva l'ipotesi di una mozione di sfiducia per festa. Qualora quei passi che faranno arriveremo al numero di 17, poi decideremo che cosa fare tutti insieme perché c'è anche un'opposizione che non è tutto il PD. Quindi si parlerà con tutti. E sulle dichiarazioni di Petito che aveva parlato di farneticazioni di buono pane e non è abituato a stare in un partito replica così. Lui ci dovrebbe dire prima se sa qual è il suo partito e poi se sa quale sono le dinamiche politiche. Perché ad oggi di politica che sta facendo il consigliere già non ne vedo niente. Vedo solo opportunismo a seconda di dove ti trovi, sia alla provincia, alla regione o al comune. E in chiusura ritorniamo a Salerno. L'estate non è ancora iniziata ma la città fa già registrare il record di turisti. Esulta il sindaco Enzo Napoli. Vediamo. I turisti premiano la destinazione Salerno e con la stagione estiva che ancora non è iniziata i numeri lasciano intravedere presenze mai registrate prima. Con la città che si appresta ad eguagliare e superare persino i livelli pre-Covid. Come sottolineato con orgoglio dal sindaco Vincenzo Napoli. L'assessore Ferrara sta lavorando attivamente in queste ore per fare dei passi considerevoli. Cioè questo è un work in progress. Continuamente si procede e si impara facendo e si cerca di offrire quanto più è possibile per quanto riguarda l'offerta ai nostri turisti. Devo dire che i dati sono assolutamente incoraggianti. siano dei numeri impensabili. Finalmente pare che si sia ripreso per intero la nostra prerogativa turistica e le cose stanno andando al meglio. Allo stesso tempo il primo cittadino raccomanda prudenza alle migliaia di visitatori in arrivo a Salerno. Il rimescolamento sociale, come sottolineato anche dal presidente della regione Vincenzo De Luca, potrebbe riportare una fiammata del contagio Covid. Naturalmente io non smetto mai di raccomandare ai miei concittadini e ai tanti visitatori di avere un comportamento responsabile e sicuramente prudente perché il Covid ancora c'è e quindi bisogna fare in modo, come vedete io indosso la mascherina, bisogna fare in modo che laddove ci siano assembramenti, laddove c'è qualche difficoltà, qualche criticità, indossare la mascherina e tutelare se stesse e gli altri. Abbiamo terminato. È tutto per questo TG News. Grazie regia Adaldo Fenizia. Vi lascio alle previsioni del tempo, poi il TG Sport. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.